È oscillante la curva dei contagi per indicare la positività in città e in provincia nelle ultime 24 ore, infatti diminuisce di poco rispetto ai giorni precedenti. Sono 212 pazienti positivi in tutta la provincia, sono in isolamento domiciliare, 67 sono a Caltanissetta, quindi qualche numero in più rispetto ai giorni precedenti, 53 sono di Gela, scende l'indice nella città del Golfo, 18 sono a Niscemi, 17 a San Cataldo, 15 a Buttare e così via nei altri paesi della provincia. Nel dettaglio il numero dei ricoverati aumenta di due unità, da 44 passa a 46, sono 547 i positivi in quarantena domiciliare, 11 i positivi in malattie infettive ricoverati a Gela, i positivi in quarantena domiciliare sono 719 e invece i positivi ricoverati in malattie infettive sono 11. In tutti i paesi della provincia risultano dei positivi in quarantena domiciliare, tranne a Villalba, infatti c'è soltanto un positivo in malattie infettive ricoverato, sono 5 invece i ricoverati provenienti da altre province, 2556 nel complesso i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.